Sembrerebbe si stiano calmando le tensioni in Ucraina orientale, sul campo e fuori. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto infatti questo lunedì di essere pronto a incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin, aggiungendo che un nuovo cessate il fuoco è sempre più vicino. Oggi ha incaricato il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, di mettersi in contatto con l'amministrazione del presidente Putin per raggiungere un'intesa e concordare i termini e il luogo dove possiamo incontrarci. Zelensky ha chiesto una revisione dell'accordo del 2015 destinato a portare la pace nella regione del Donbass, devastata da sette anni di guerra. L'Ucraino vorrebbe un impegno più importante di Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Questo è un segnale allarmante, abbiamo detto più di una volta che non è una situazione facile, ha dichiarato il portavoce di Putin. Mostra il desiderio dell'Ucraina di cambiare il processo di Minsk, ma non c'è modo di cambiarlo senza di fatto terminarlo. La Russia nelle ultime settimane aveva dispiegato decine di migliaia di truppe sul confine ucraino e in Crimea, facendo temere a Kiev e all'Occidente si trattasse di una grande operazione militare.